Non è vero che nei play-off di Lega Pro si resetta tutto un campionato e si ricomincia da cavo. Così fosse, un pari ti porterebbe alla disputa dei supplementari e poi alla battuta dei calci di rigore. Invece a Palermo il Teramo avrà un solo risultato dalla propria, la vittoria, ed espugnare il Renzo Berbera non sarà come bere un bicchier d'acqua. C'è anche il rovescio della medaglia, è vero. Si è assolutamente certi del fatto che scendere in campo col vantaggio di due risultati su tre non possa essere addirittura controproducente? Se becchi un gol a freddo o anche a metà ripresa, almeno in chiave psicologica, facilissimo non sarà neppure per i padroni di casa, quindi né per gli uni né per gli altri. Ed allora entreranno in scena le forze tecniche e tattiche, quelle che dicono che tra Palermo e Teramo la differenza nell'arco di un campionato intero l'ha fatta a un solo punto, a vantaggio dei sicuri. Se è vero che loro avevano iniziato malissimo lo è altrettanto per il Teramo, che aveva iniziato benissimo, ma che poi aveva fatto altrettanto male o malissimo dopo quell'inizio stratosferico che si bloccò a Terni. Palermo-Teramo sarà pertanto una gara apertissima, con la leggera variante data dai due risultati su tre rispetto allo standard del campionato, ma rimane una variante comunque leggera appunto, perché rafforzata anche dal vuoto sugli spalti. Massimo Paci dovrà allora predisporre una partita non solo d'attesa, come fece lo scorso anno Cetteo Di Mascio a Catanzaro. Se giochi per non perdere e non perdi, infatti, torni a casa. Tanto vale giocarsela convintemente dall'inizio per vincere, correndo anche tutti i rischi del caso, ma in maniera razionale. Nessun dubbio nel merito.